Questo era il mio desk di lavoro, lì praticamente ero un operatore di rete, facevo le cose che gli altri non volevano fare all'interno della rete software hardware IoT di Epson. Era un bel affarsi perché quello che mi trovavo a fare era praticamente fare assistenza a tutte le persone che avevano problemi e oltre a quello molto spesso mi trovavo a fare il new setup per i nuovi dipendenti o magari fare la pulizia dei dipendenti che invece se ne stavano andando. In Australia c'è molto un riciclo, cioè le persone cambiano lavoro dopo un anno e mezzo, due, è difficile che rimangano per molto tempo in un'unica posizione lavorativa. Quasi tutti, non dico fanno carriera, però o ricevono uno stipendio maggiorato o cambiano ruolo per andare in una posizione migliore all'interno della stessa azienda o in un'altra azienda. È raro che ci sia una persona che è dentro quell'azienda per 5, 10, 15 anni. Quasi tutti cambiano, a meno che non abbiano più di 50 anni. Se hanno più di 50 anni di solito poi trovano una posizione e quella rimangono. Comunque mi trovavo sempre a fare un reset up di tutti i nuovi collaboratori, tutti i nuovi dipendenti. Questa era la mia posizione, praticamente potete vedere un paio di hard disk dove probabilmente stavo facendo backup e stavo ristallando i vari sistemi operativi. Un po' di computer è molto buttata lì perché semplicemente staccavo, mettevo continuamente ogni volta che la riordinavo. Comunque 15 minuti dopo avevo 4 computer diversi sulla scrivania dovevo rifare la ristallazione di altre 20 cose. E la sfiga di tutto questo è che non ho imparato tantissimo l'inglese con questo lavoro perché nel momento in cui mi chiamava qualcuno e dovevo andare a sistemare quel problema questa persona mi diceva guarda io ho questo problema, io ascoltavo quindi vabbè l'orecchio me lo sono fatto per ascoltare e capire, capivo tutto e riuscivo a capire quasi tutto a parte quello che mi diceva il mio collega di sinistra ma dopo vi spiego. Il problema è che questi mi dicevano il loro problema, io bene o male dopo 3 settimane avevo capito tutti quelli che potevano essere i problemi non è che ce ne fossero di nuovi di problemi, quasi sempre qualcuno sbagliava quelle 20 cose che potevano essere sbagliate e generava un casino della madonna. Però loro mi dicevano questo è il problema, io stavo zitto e glielo risolvevo a posto ciao e quindi parlavo pochissimo, parlavo veramente poco e questo è stato un qualcosa che magari tornando indietro cambierei cercherei di magari anche cercare un po' più di entrare nelle altre persone però è difficile facendo questo tipo di lavoro è molto più facile facendo il cameriere o facendo anche semplicemente banalmente il lavoro che ho fatto dopo nelle construction che praticamente facevo il tutto a fare nelle construction poi. Quindi lì ho fatto lo stagista per due settimane dopo due settimane domino con l'attrezzo, domino ripara tutto, quello dei cartoni doveva dirmi tu rimani, tu non rimani fortunatamente mi hanno detto tu rimani, prima mi hanno dato un contratto. Fortunatamente perché? Fortunatamente perché se non mi avesse detto tu rimani io ero letteralmente in mezzo alla strada perché dopo aver pagato il visto dopo aver pagato il volo, dopo aver pagato la caparra perché nonostante fossimo in sub sub affitto nell'appartamento comunque la caparra la voluta e il primo mese ho pagato poi si pagava a due settimane cioè pagavi di due settimane in due settimane avevo finito i soldi cioè se non mi rinnovava io dovevo iniziare a chiedere soldi a casa perché non ce l'avrei più non ci stavo dentro. Fortunatamente mi ha rinnovato il contratto e ancora più fortunatamente in Australia si paga a settimana non ti arriva la busta paga una volta al mese, ti arriva la busta paga ogni settimana e quindi con la prima busta paga mi sono coperto e poi ho iniziato a risparmiare e lavorare prima mi hanno offerto un contratto da due mesi, poi l'hanno prolungato di altri due mesi e poi l'hanno prolungato di altri due mesi, arrivando fino a 6 che è il massimo con il visto che avevo il Working Holiday Visa, a 6 mesi in realtà mi avevano offerto la possibilità di avere contratto annuale o contratto da due anni per cambiare visto e rimanere lì, però sinceramente io avevo 20 anni all'epoca sì 20 anni quando loro mi hanno fatto l'offerta, sono arrivato a 19, sono classe 1998 sinceramente a 20 anni volevo vedere altre cose, non me la sentivo di vincolarmi a Sydney che comunque andava benissimo il lavoro che facevo, non era nulla di folgorante però comunque mi piaceva, cioè comunque non mi annoiavo, comunque non contavo i minuti per andare a casa cioè c'erano comunque giornate noiose dove succedeva, succede penso a chiunque faccia un lavoro pagato ad ora può succedere quella giornata dove dici non vedo andare a casa a chiudere tutto e via però non succedeva così spesso e quindi il lavoro non era un problema era proprio un discorso dopo 6 mesi che mi hanno fatto questa offerta avevo 20 anni, ho detto voglio vedere altro, voglio fare altro ad ora non voglio vincolarmi a contratti di questo tipo e soprattutto avevo intenzione di tornare in Italia a fare altre cose perché poi era iniziata la passione per YouTube, la passione per l'informazione e quindi avevo già in mente di iniziare un canale YouTube che poi ho iniziato nel 2018 a luglio quindi dopo essere tornato due mesi avevo pubblicato il mio primo video su YouTube perché nel frattempo avevo iniziato ad appassionarmi del tema finanza personale perché proprio lì avevo ricevuto i primi soldini e avevo iniziato a farmi le domande che tutti si fanno A. Come guadagnarne banalmente di più e B. Come utilizzare al meglio quelli che già faccio e lì sono entrato in un loop di prima finanza personale poi investimenti, poi c'è stato cripto poi business di tutti i tipi dal social media management a dropshipping a Amazon FBA a qualsiasi cosa in quei mesi mentre ero in Australia l'ho indagata, l'ho studiata, ho provato qualcosino e quindi sono entrato in questo loop che poi è il loop che mi ha fatto dire cavolo però qui su YouTube c'è un'opportunità accogliamola e poi è iniziato quello che è ora il mio canale YouTube però adesso ho velocizzato molto 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 la storia voglio tornare al discorso dei miei due compagni di lavoro quella a destra di questa postazione e quella a sinistra perché eravamo in una stanza, eravamo gli unici nella stanza non ho capito bene perché si vede che semplicemente hanno separato così il compartimento IT però tutti quanti erano in un bello open space noi eravamo in questa stanza intima quasi eravamo quelle persone al di là dell'amministratore delegato che aveva il suo ufficetto noi eravamo i tre che avevano l'ufficione e gli altri erano tutti in un open space e davanti avevamo i server aziendali grossissimi con quattro lucchetti belli pesanti e infatti quando le 4-5 volte che sono entrato lì perché c'erano problemi non sono mai entrato da solo non me lo facevano fare e soprattutto abbiamo dovuto essere iperdelicati perché poi lì c'erano letteralmente i server che facevano girare l'oceania per quel che riguarda Epson quindi era tipo un muoversi quasi a specchio così per non fare danni comunque nella mia sinistra avevo uno Sri Lankese bellissimo, fantastico lui tra l'altro ci sono rimasto in contatto e ci siamo poi rivisti in Italia dall'altra avevo uno scozzese anche lui stra simpatico padre di famiglia però dello scozzese ragazzi e mi metto a schermo pieno io dello scozzese non capivo niente ma proprio lui mi parlava non capivo niente poi tra l'altro era lui che prendeva le decisioni quindi dovevamo tutti e due ascoltare sto tipo qua oh ma non capivo assolutamente nulla zero cioè lui mi parlava in inglese ma era un inglese inconcepibile cioè non so boh veramente non lo so non ho mai capito nulla infatti quello che facevo quando lui mi parlava era dire sì 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 ok sì 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 ok finisco questo e poi lo faccio e poi appena lui faceva altro si girava usciva dall'ufficetto perché doveva fare altre cose mi giravo verso lo strilanchese e gli dicevo hai capito che anche questa volta non ho capito niente puoi puoi spiegarmi cosa mi hai chiesto di fare perché io non ho proprio capito niente e questa cosa succedeva sempre ogni volta lui mi parlava io non capivo mi giravo dallo strilanchese lui mi rispiegava contento